allora ragazzi scusate che sto un po' così in desabbiglie ma se mi sto riposando volevo parlarvi un po' di ciò che ho visto sul PES 2021 e vorrei capire se quella pensate come me e spero che mi tempestate di commenti sotto allora secondo me il gioco è migliorato molto migliorato molto bello e sono migliorati i passaggi che devono essere un po' più calibrati un po' sono migliorati i tiri a giro l'1-2 di chi giocava solo di 1-2 facile non se ne va secondo me hanno un po' difettato la difesa nel senso se fai un ottimo passaggio filtrante fatto bene da difesa molto difficile da manovrare i portieri sono molto meno reattivi dell'altro anno non molto però un po' meno reattivi ci sono i tiri davanti gli attaccanti quando tirano spaccano le porte è un gioco molto fatto bene credo che hanno migliorato tantissime cose il gioco a me piace personalmente piace tantissimo spero che vi divertiate con il PES 2021 nuovo e ditemi la vostra sotto nei commenti iscrivetevi sui canali twitch youtube tik tok instagram un saluto dal vostro criminal 7 gamer bella rica